Dopo aver osservato il proprio turno di riposo il Soverato torna in campo e inizia il girone di ritorno del campionato di A2-Girone Est, si parte in trasferta, big match della prima giornata di ritorno, si va in campo contro Vallefoglia che proprio qui nella partita inaugurale del campionato di A2 a settembre si impose per 3-1. Vice capolista attuale a Vallefoglia, quindi una partita dai grandi contenuti tecnici ma anche dai tanti stimoli per il Volo e Soverato. Sì, una partita difficile secondo me contro una delle squadre che sta esprimendo il gioco migliore, soprattutto la squadra che ha più solidità. Ha avuto un percorso di grande costanza in questo girone di andata, andando a vincere anche l'ultima partita a Talmasson dopo 5 lunghi set. Una squadra che ci ha battuto nella prima di campionato, anche se devo dire che erano tempi diversi e noi eravamo completamente diversi da come siamo adesso e da come ci presenteremo domenica prossima. Partita difficile perché è una squadra che unisce esperienza, talento, con tanti centimetri nella rete, una partita veramente tosta in cui bisognerà fare bene due o tre cose per potersela giocare sperando che sia sufficiente. Quindi condizioni diciamo indispensabili e poi provare a giocarsi all'avviso aperto, senza timori riverenziali, sicuramente con delle chiavi importanti come per esempio il servizio, come può essere la difesa contro una squadra che ha diverse soluzioni in attacco. Soverato che prima di aver osservato il proprio turno di riposo ha sconfitto in casa l'attuale capolista del campionato, Cutrofiano, che ha dimostrato, ha dato segnali di essere in salute. Adesso si riparte con le prime quattro della classifica che praticamente sono molto vicine, indice anche di grande equilibrio che regna in questo Gironeste di Adorno. Sì, noi dobbiamo trovare un po' più di continuità perché dopo la partita con San Giovanni Marignano, molto buona, abbiamo fatto una brutta partita dal Masson e poi siamo tornati a fare una super partita contro Cutrofiano. Bisogna capire quale volto vestiamo ogni domenica e questa è una cosa poi difficile da gestire durante la settimana o come ho già detto in allenamento. È chiaro che la squadra giovane ha questo tipo di caratteristica, quella di fare un po' alti e bassi, però è anche compito nostro poi provare tramite gli allenamenti a trovare soprattutto più costanza in quello che facciamo. Laddove, come è stata la partita con Cutrofiano, esprimiamo a volte anche un gioco molto buono, molto bello da vedere. Sicuramente riusciamo anche ad avere diverse soluzioni di attacco, però questo non basta perché poi quello che paga in campionati così lunghi e difficili invece è la costanza che è quello che per esempio in qualche misura ha dato a Cutrofiano il primato in classifica. Quindi dobbiamo assolutamente unire al bel gioco che spesso facciamo vedere e alle cose molto interessanti un equilibrio e una costanza perché altrimenti vanifichiamo quanto di buono facciamo poi in alcuni momenti come la partita con Cutrofiano. Terminato il girone di andata possiamo tracciare anche un piccolo bilancio non solo per quanto riguarda il cammino del Valle Soverato ma più in generale di questo girone est di A2. A giudizio di Coccio Napolitano, sin qui che campionato è stato se le aspettative della vigilia per la stagione in generale sono sin qui state rispettate? Guarda, partiamo da Vallefoglia che era la squadra che incontriamo domenica. Sinceramente Vallefoglia era un po' un'incognita nel senso che essendo una neopromossa non sapevamo come si potesse esprimere ma effettivamente anche durante l'estate aveva creato un roster di tutto rispetto soprattutto poi con l'aggiunta di Bacchi che è una giocatrice di grandissimo valore, di esperienza ma con Bresciani dentro. Quindi Vallefoglia per quanto nuova si poteva immaginare che facesse un buon campionato alla luce del roster. Stessa cosa per dire Cutrofiano, forse non in una posizione di prima in classifica solitario però con gente come Quarchioni, Caneva, comunque io il campionato più o meno me lo aspettavo in questi termini. Un campionato senza stelle ma con un livello medio alto in cui ognuno può fare risultato con le altre. Noi tutto sommato occupiamo la classifica che ci meritiamo abbiamo lasciato forse un paio di punti per strada che in questo momento ci avrebbero fatto comodo però io sono contento del percorso che abbiamo fatto fino adesso e ritorno al discorso di prima. Abbiamo fatto due super partite contro le prime della classe, Manignano prima e Cutrofiano dopo, facendo cose molto molto buone e purtroppo non basta con un campionato così di livello, con questi equilibri serve più continuità. Quindi dobbiamo lavorare in quella direzione e mi auguro che il giorno di ritorno possiamo ripetere sia le belle prestazioni ma trovare anche un po' più di equilibrio limitando quei passaggi a vuoto che hanno un po' marchiato unitamente alle belle prestazioni il giro nell'andata.